Ci aspettavamo qualche voto in più sinceramente, è andata come è andata e i biassonesi hanno deciso di riconfermare Casiraghi, onore a chi ha vinto, il voto va sempre rispettato, speravamo di prendere qualche voto in più, siamo comunque convinti di avere fatto il giusto passo, non è stato premiato in fondo il merito, le competenze, i simboli evidentemente pesano ancora tanto, in ogni caso ripeto, chi vince ha sempre ragione, onore a chi ha vinto. Ciao.